ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video si apre la stagione invernale questa novità della stagione è questa qui splitboard prima uscita della stagione splitboard ovviamente accompagnata da michele compagno di avventure ci avevamo promesso l'anno scorso di farlo e l'abbiamo fatto prima uscita ieri ha nevicato un pochino la situazione neve abbastanza buona presto in questa stagione e siamo dove al cospetto della marmolada quindi si parte col botto sarà bella tosta le gambe non so se terranno michele l'ha già fatta l'anno scorso quindi sa cosa va incontro io non l'ho mai fatto quindi vediamo un po come andrà intanto proseguiamo che la via è bella lunga verso la risalita quindi se aggiorniamo più caldo no vabbè guardate che vista prima volta per me sulla marmolada pazzesco saranno al momento 15 gradi però tutto sommato si sta si sta bene continuiamo con la prima pellata della stagione prima super viva da qui ok nel frattempo un bel po di strada abbiamo fatto saremo sopra le 3.000 adesso circa intorno ai 3.000 il nostro obiettivo di oggi è come si chiama delle punta rocca sopra lì mancherà ancora un bel tratto soprattutto è bello un bello ripidino questo qui però stiamo andando avanti è il nostro passo no per essere la prima uscita sono già felice di essere qua tanto la view dietro qua vabbè che ve lo dico a fare adesso ve la mostro un pochino questa qui è la nostra view alle spalle adesso si continua ultimo strappetto possiamo farsela che di cinchere con calma ce la possiamo fare ce la faremo sole e qui c'è ragazzone Michele ce l'abbiamo fatta io non ci credo però guarda che roba mamma mia non ci credo non ci credo guardate che dio incredibile siamo sopra a tutte le dolomiti pazzesco intanto aspetta ve lo faccio vedere perchè Michele fa l'angelo e poi prima dell'anno prima dell'anno non mi davo un euro ieri la pensaglia di ora qua ce l'abbiamo fatta ci godiamo un po' questa vista pazzesca al gelo copriamo due tre energie dopo si scende sarà venti minuti quanti saranno? venti minuti di discesa casiamo a bomba ce la godiamo perchè è stata lunghissima non so quanto ci abbiamo messo da controllo l'orologio e niente ci vediamo più tardi ragazzi man volata si vola grazie a tu uuuu 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 che rivolta e uuuu uuuu maamalia uuuu 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 Vado! 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 Prima marmorana della storia! Ah! Ah! Io teme coi gambe! Ah! Mamma mia! Mamma mia!